Almeno 40 migranti sono morti a bordo di un barcone soccorso a 21 miglia dalla costa libica dalla marina militare. I loro corpi sono stati trovati nella stiva e bisognerà capire se le vittime sono morte per il caldo o per i fumi del motore. L'imbarcazione trasportava in tutto circa 400 persone. La nuova tragedia di oggi non sarà l'ultima se non si risolve il problema della Libia, ha detto il ministro dell'interno Alfano, commentando il naufragio e facendo appello alla comunità internazionale. Sono 103.000 migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio ad oggi, ha spiegato il capo del Viminale, un migliaio in meno rispetto all'analogo periodo dello scorso anno.